bene come potete vedere c'è il trullo da una parte e la cosiddetta lamia dall'altra quindi andiamo a vedere all'interno che cosa c'è quando scuoti queste cose puoi trovare e fare fortuna! tesori inestimabili cosa hai trovato? un trenoire ebbene come potete vedere cari amici purtroppo la casa si è un po incastrata quindi abbiamo chiamato il nostro amico potatore arcangelo e mentre con paola mettiamo gli ultimi gli ultimi tasselli di questa piscina guardate è arrivata l'autobotte la sta riempendo completamente e poi penso e credo che a brevissimo finalmente potremmo fare un bagno la faranno i nostri eroi? oh 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 adesso cade no? oh 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 oh